Bene, siamo contenti perché siamo campioni provinciali Andericiotto dopo una partita molto tirata, difficile, sia a livello tattico che a livello emotivo, contro un Belizzole ben schierato in campo che è stato in grado di sfruttare tutti i nostri punti deboli e devo dire che noi abbiamo fatto una partita molto aggressiva, non preoccupandoci degli errori, questo chiaramente ha vantaggiato un po' il Belizzole, però alla fine la mentalità ci ha dato ragione e al quinto set siamo stati bravi a chiudere la partita. Siamo molto contenti di questo risultato perché sicuramente a inizio stagione non siamo partiti come favorite, assolutamente, tant'è che la base dell'Under-18 sono le ragazzine del 2004, primo anno Under-16, e quindi è una squadra molto giovane e quindi non pensavo, l'obiettivo iniziale era vediamo se ce la facciamo arrivare tra le prime quattro e poi alla fine abbiamo visto durante il campionato che siamo pian piano cresciute, abbiamo battuto sia l'andata che il ritorno del Belizzole ma che chiaramente non fa testo perché comunque durante le partite sia da una parte che dall'altra ci sono state delle assenze e alla fine comunque siamo arrivati belli carichi, ma soprattutto sono contento perché abbiamo fatto una partita dove non potevamo esprimere il nostro gioco, perché purtroppo siamo redicine a molti infortuni, Tomasi è stata ferma per due mesi, la squadra girava in un certo modo prima di Natale e dopo il suo stop chiaramente, essendo lei il nostro punto di riferimento come centrale, ci siamo adattati un po' a giocare con tutte le squadre, un gioco molto scontato. In effetti parlando della finale non mi è assolutamente piaciuta la gara, la nostra partita, perché sia tecnicamente che tatticamente non siamo stati in grado di sviluppare il nostro gioco e quindi ha un valore aggiunto la vittoria perché in sofferenza siamo riusciti comunque a portarci a casa questo risultato. L'altra assenza che ci è pesato molto è stata quella di Miljojkovic che purtroppo ha un problema alla spalla, abbiamo cercato di recuperarla per la finale e poi alla fine non me la sono sentita di convocarla perché comunque prima viene la ragazza e poi viene il risultato. Quindi con tutte queste difficoltà qua sono contento, voglio sottolineare e fare i complimenti al Bedizzole, è stata una bellissima finale, siamo contenti perché abbiamo vinto a noi, potevano vincere anche loro, il quinto set è stato un po' secondo me l'abbiamo vinto un po' per due motivi. La prima è stata una scelta tattica, nel senso che facevano difficoltà a contenere Adriana, il loro S1, perché giocava molto bene money out sul nostro palleggio, su Rossi, e io praticamente sono partito con il doppio cambio fatto perché volevo invertire le linee, tant'è che poi con davanti la Giacomini Adriana si è ammurato un paio di volte e da lì lei ha calato il suo rendimento. L'altro fattore è stato sicuramente il campionato di Serie C, in Serie C non so quante partite, però 4-5 partite le abbiamo vinte sul 3-2, quindi la capacità di stare dentro a giocare 5-7 in un campionato come la Serie C e alla fine ci ha dato quella tranquillità necessaria per portarci a casa il puntato. È il primo anno da quando siamo qui che vincevamo la 18, dopo due finali perse e finalmente nel terzo anno ci siamo portati a casa questo titolo, che ci mancava dopo quella del 14-16 dell'anno scorso.